Capitolo 29 Coriolanus affrontò da soldato in momenti successivi, mantenendosi impassibile e muto mentre rientrava alla base, restituiva il fucile e si avviava verso la baracca. Sapeva che la gente lo fissava, erano tutti a conoscenza del fatto che Sejanus era stato suo amico o perlomeno un membro della sua squadra. Volevano vederlo crollare, ma si rifiutava di dare a chiunque quella soddisfazione. Nella camerata da solo si tolse pian piano l'uniforme, appese con cura la giacca, i pantaloni, lisciando le grinze con le dita. Lontano da occhi indiscreti concesse al suo corpo di abbandonarsi, alle sue spalle di afflosciarsi per la stanchezza. Quel giorno era riuscito a mandare giù solo qualche sorso di succo di mela. Si sentiva troppo debole per raggiungere la squadra all'esercitazione di tiro, per affrontare Bug, Pertica e Smiley. In ogni caso gli tremavano troppo le mani per imbracciare ancora un fucile. Si sedette invece sulla branda di Pertica, vestito solo della biancheria intima nella stanza soffocante, in attesa di ciò che sarebbe successo, di qualunque cosa si trattasse. Era solo questione di tempo, forse doveva consegnarsi e basta. Prima che venissero ad arrestarlo perché Sprius aveva confessato, o più probabilmente, perché Sejanus aveva rivelato i particolari degli omicidi. E anche se non l'avevano fatto, il fucile da pacificatore era comunque là fuori, coperto del suo DNA. Sprius non era fuggito verso la libertà. Forse si era tenuto nascosto fino al momento in cui avrebbe potuto salvare Lille, e se era rimasto nel distretto 12, probabilmente c'erano rimaste anche le armi dei delitti. Magari qualcuno stava esaminando il fucile in quel preciso istante, cercando conferma all'ipotesi che Sprius l'avesse usato per uccidere Mayfair, e scoprendo invece che il tiratore era proprio il soldato semplice Snow, quello che aveva tradito il suo miglior amico e lo aveva spedito sulla forca. Coriolanus si nascose il viso tra le mani. Aveva ucciso lui Sejanus. Non lo aveva pestato a morte come aveva fatto con Bobbin, o freddato come Mayfair, ma era colpevole della sua morte. Aveva ucciso la persona che lo considerava un fratello. Ma anche mentre l'infamia di quell'azione minacciava di sopraffarlo, una vocina sottile continuava a chiedere, che alternativa avevi? Che alternativa? Nessuna. Sejanus era deciso ad autodistruggersi, e Coriolanus era stato trascinato nella sua scia, solo per essere depositato a sua volta ai piedi dell'albero delle impiccagioni. Tentò di pensare in modo razionale. Senza il suo intervento, Sejanus sarebbe morto nell'arena, preda del branco di tributi che aveva cercato di ucciderli entrambi mentre fuggivano. Tecnicamente Coriolanus gli aveva regalato un po' più di tempo da vivere e una seconda occasione, un'opportunità di riparare ai suoi sbagli. Ma Sejanus non lo aveva fatto. Non c'era riuscito. No, non aveva voluto. Era quello che era. Forse una qualche landa disabitata sarebbe stata la soluzione migliore per lui. Povero Sejanus. Povero, gentile, sciocco e ora morto Sejanus. Coriolanus andò all'armadietto dell'amico, prese la scatola degli effetti personali e si sedette sul pavimento, spargendo il contenuto davanti a sé. Le uniche novità che vi trovò rispetto alla sua prima ispezione erano due biscotti fatti in casa, avvolti ciascuni in un pezzetto di stoffa. Coriolanus ne aprì uno e diede un morso. Perché no? Il sapore dolce gli si diffuse sulla lingua e il suo cervello rivide lampi di immagini. Sejanus che offriva un panino mentre erano allo zoo. Sejanus che teneva testa alla dottoressa Gol. Sejanus che lo abbracciava sulla via del ritorno alla base. Sejanus che dondolava dalla corda. Ma! 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 Tentò di mandare giù il biscotto, ma ebbe un conato che insieme alle briciole gli fece rigettare anche uno spruzzo di succo di mela, acido e disgustoso. Con il sudore che gli colava lungo tutto il corpo cominciò a piangere. Appoggiò la schiena agli armadietti. Portò le ginocchia al petto e si lasciò scuotere dai duri, violenti singhiozzi. Pianse per Sejanus e per la povera vecchia ma. Pianse per la dolce, devota Tigris e per la fragile e vaneggiante signora nonna, che ben presto lo avrebbero perduto in modo tanto squallido. E pianse per se stesso, perché sarebbe morto da un momento all'altro. Iniziò a boccheggiare, terrorizzato, come se la corda lo stesse già soffocando. Non voleva morire. Specie lì, in mezzo a quel campo, con quei volatili mutanti che ripetevano come un eco le sue ultime parole. Chi poteva sapere quale assurdità avrebbe detto in un istante come quello? E una volta morto, gli uccelli avrebbero continuato a gridare con quanto fiato avevano, finché le ghiandaie e imitatrici non avessero trasformato il loro in qualche macabra canzone. Dopo circa cinque minuti, la crisi di pianto si placò e Coriolanus si tranquillizzò sfregando il pollice sopra il freddo cuore di marmo della scatola di Sejanus. Non c'era altro da fare se non affrontare la morte da uomo, da soldato, da snow. Accettare il proprio destino gli fece sentire il bisogno di mettere ordine nella sua vita. Doveva scusarsi come poteva con le persone che amava. Staccò il retro della cornice d'argento e trovò un bel po' di contanti che erano rimasti dopo l'acquisto dei fucili. Prese una delle eleganti buste color crema che Sejanus aveva portato da Capitol City, vinfilò dentro il denaro, la sigillò e la indirizzò a Tigris. Dopo aver riordinato i cimeli di Sejanus, rimise la scatola nell'armadietto. Cos'altro? Si ritrovò a pensare a Lucy Gray, il solo e ormai unico amore della sua vita. Gli sarebbe piaciuto lasciarle un oggetto in suo ricordo. Rovistò nella propria scatola e optò per il fular arancione, visto che i covi amavano i colori e lei più di chiunque altro. Non sapeva bene come glielo avrebbe fatto arrivare, ma se fosse sopravvissuto un po' più a lungo, magari sarebbe potuto sgattaiolare fuori dalla base e avrebbe potuto vederla un'ultima volta. Mise il fular piegato ordinatamente nella scatola con le corde per gli strumenti che aveva mandato Pluribus. Dopo essersi sciacquato il viso, si vestì e andò all'ufficio postale per spedire a casa il denaro. A cena, con un filo di voce, fece il resoconto dell'esecuzione, tentando di addolcirlo un po' ai suoi compagni. Credo sia morto sul colpo. Non deve aver sentito dolore. Ancora non riesco a credere a quello che ha fatto, disse Smiley. Apertica tremava la voce. Spero non pensino che siamo tutti coinvolti. Io e Bug siamo gli unici che potrebbero essere sospettati di simpatizzare con i ribelli, visto che veniamo dai distretti, obiettò Smiley. Voi di cosa vi preoccupate? Siete di Capitol City. Lo era anche Sejanus, gli ricordò Pertica. Non proprio, giusto? Parlava sempre del distretto 2, ricordò Bug. No, non proprio, concordò Coriolanus. Passò la serata prestando servizio di guardia davanti alla prigione vuota. Dormì profondamente, visto che era stanco morto, il che aveva senso dal momento che era solo questione di ore, prima che lo fosse anche lui, morto davvero, appeso alla forca. Durante l'esercitazione al mattino compì tutti i movimenti meccanicamente e si sentì quasi sollevato quando, a fine pranzo, comparve l'attendente del comandante Hoff a chiedergli di seguirlo. Scena non drammatica come lo sarebbe stata se a prelevarlo fosse arrivata la polizia militare, ma dato che alla base stavano cercando di ripristinare una certa normalità fra le truppe, quello era il modo giusto di procedere. Dall'ufficio del comandante lo avrebbero di sicuro portato dritto in prigione. Coriolanus rimpianse di non essersi messo in tasca qualche pezzetto di casa cui aggrapparsi nelle ultime ore. La cipria di sua madre sarebbe stata l'ideale, qualcosa che lo calmasse mentre aspettava l'esecuzione. Per quanto non fosse lussuoso, l'ufficio si dimostrò più bello di qualunque altro spazio della base e lui affondò nella sedia di cuoio di fronte alla scrivania di Hoff, grato di poter ricevere la sentenza capitale con un minimo di classe. Ricordati che sei uno snow, si disse. Vediamo di andarcene con un po' di dignità. Il comandante congedò l'attendente che uscì dall'ufficio e si chiuse la porta alle spalle. Hoff si appoggiò allo schienale della sua sedia e osservò Coriolanus per un lungo istante. «Settimana impegnativa per te». «Sì, signore». Desiderava che l'uomo procedesse con l'interrogatorio. Era troppo stanco per fare il gioco del gatto con il topo. «Settimana impegnativa», ripeté Hoff. «Ho sentito che eri uno studente modello a Capitol City». Coriolanus non sapeva proprio da chi l'avesse sentito dire e si chiese se non potesse essere stato Sejanus. «Non che avesse importanza. È un giudizio generoso». Il comandante sorrise. «E' modesto anche». «Mi arresti e basta», pensò Coriolanus. Non aveva bisogno di un lungo giro di parole per concludere quanto si fosse rivelato una delusione. «Mi dicono che eri molto amico di sejanus splint», continuò Hoff. «Ah, eccoci qui. Perché non velocizzare le cose, invece di tirarla per le lunghe a forza di smentite?» «Eravamo più che amici. Eravamo come fratelli». Hoff gli lanciò uno sguardo pieno di comprensione. «Allora non posso fare altro che esprimere la più sincera gratitudine di Capitol City per il tuo sacrificio». «Un momento. Che cosa?» Coriolanus lo fissò, perplesso. «Signore, la dottoressa Gol ha ricevuto il tuo messaggio tramite la ghiandaia chiacchierona», riferì Hoff. «Ha detto che mandarlo non deve essere stata una scelta facile per te. A livello personale hai pagato un caro prezzo per la tua fedeltà». Una sospensione della pena, quindi. A quanto pareva, il fucile con il suo DNA non era stato ancora rinvenuto. Lo vedevano come un eroe combattuto di Capitol City. Assunse un'aria sofferente, come si adiceva a un uomo che piangeva un amico testardo. «Seianus non era cattivo, solo confuso». «Sono d'accordo, ma cospirare con il nemico oltrepassa un limite che non possiamo permetterci di ignorare», temo. Hoff fece una pausa, pensieroso. «Credi che potesse essere coinvolto negli omicidi?» Coriolanus sgranò gli occhi, come se l'idea non gli fosse mai passata per la testa. «Gli omicidi? Intende quelli al forno?» «La figlia del sindaco e...» Il comandante scorse rapidamente alcuni documenti, poi decise di non curarsene. Quell'altro tizio. «Oh, non penso, no. Ritiene che siano collegati», chiese Coriolanus, quasi ne fosse sconcertato. «Non lo so, e non mi interessa particolarmente», rispose Hoff. «Il giovanotto frequentava i ribelli, e lei frequentava lui. Chiunque le abbia uccisi, forse mi ha risparmiato un sacco di fastidi futuri». «Non sembra da Seianus», disse Coriolanus. «Lui non ha mai voluto fare del male a nessuno. Voleva diventare un soccorritore militare». «Sì, è quello che ha detto il tuo sergente», confermò Hoff. «Quindi non ha mai parlato di voler comprare loro dei fucili?» «Fucili?» «Non che io sappia. E come avrebbe fatto a procurarsi dei fucili?» Coriolanus cominciava a divertirsi un po'. «Comprandoli al mercato nero? Veniva da una famiglia ricca». «Beh, non importa. È probabile che rimarrà un mistero, a meno che le armi non saltino fuori». «Nei prossimi giorni farò perquisire il giacimento dei pacificatori. Nel frattempo, io e la dottoressa Goll, abbiamo deciso di mantenere il silenzio sul tuo aiuto nella faccenda, per la tua sicurezza. Non vogliamo certo che i ribelli ti prendano di mira». «Il silenzio è ciò che avrei preferito in ogni caso», disse Coriolanus. «È già abbastanza difficile dover convivere con la mia decisione in privato». «Capisco. Ma quando il polverone si sarà calmato, ricordati sempre che hai reso un grosso servizio al tuo paese. Prova a lasciarti tutto alle spalle». Poi, come per un ripensamento, aggiunse «Oggi è il mio compleanno». «Sì, ho aiutato a scaricare il whisky per la festa», disse Coriolanus. «Di solitone viene fuori una bella serata. Cerca di divertirti». Off si alzò in piedi e tese la mano. Coriolanus si alzò a sua volta e gliela strinse. «Farò del mio meglio. E buon compleanno, signore». I compagni accolsero con gioia al suo ritorno e lo subissarono di domande sulla convocazione da parte del comandante. «Sapeva che io e Seianus avevamo dei trascorsi comuni e voleva solo accertarsi che stessi bene», raccontò loro Coriolanus. La notizia migliorò l'umore di tutti e l'aggiornamento della loro tabella di marcia pomeridiana diede una certa soddisfazione a Coriolanus. Invece di sparare ai bersagli, infatti, ebbero il permesso di abbattere le ghiandaie chiacchierone e le ghiandaie imitatrici stanziate vicino all'albero delle impiccagioni. Il coro con cui avevano fatto seguito all'estremo grido di Seianus era stata l'ultima goccia. Coriolanus si sentiva girare la testa mentre sparava alle ghiandaie imitatrici tra i rami, arrivando a ucciderne tre. «Non siete più così in gamba adesso, vero?» pensava. Purtroppo, dopo un po', la maggior parte degli uccelli volò fuori tiro. Ma sarebbero tornati, e sarebbe tornato anche lui se non lo avessero impiccato prima. In onore del compleanno del comandante si fecero tutti la doccia e indossarono tutte mimetiche pulite prima di dirigersi in sala mensa. Cookie aveva imbandito una cena sorprendentemente sfarzosa, servendo bistecca, purè di patate e sugo di carne, oltre a piselli freschi non in scatola. Ogni soldato ebbe un grosso boccale di birra, e off si mise a disposizione per tagliare un'enorme torta glassata. Dopo aver mangiato, si riunirono tutti in palestra, per l'occasione decorata da striscioni e bandiere. Il whisky scorreva, e vennero fatti molti brindisi improvvisati al microfono. Ma Coriolanus non capì che ci sarebbe stato anche uno spettacolo finché alcuni soldati non cominciarono a disporre delle sedie. «Certo», gli disse un ufficiale. «Abbiamo ingaggiato quel gruppo che si esibisce al forno. Al comandante piace molto». Lucy Gray. Sarebbe stata la sua occasione, forse la sua unica occasione di rivederla. Corse alla baracca, recuperò la scatola di Pluribus con le corde per gli strumenti e il suo folar. Poi si precipitò di nuovo alla festa. Scoprì che i suoi compagni gli avevano tenuto un posto più o meno a metà della sala, ma lui si fermò in fondo. Non voleva che tutti lo vedessero uscire, nel caso gli si fosse presentata l'opportunità. Le luci tremolarono e si spensero in gran parte della palestra, lasciando illuminata solo la zona intorno al microfono, e pian piano la folla si zitti. Gli occhi di tutti erano puntati sulla coperta che i covi usavano al forno come quinta. Modaivori ne uscì sgambettando con un vestito giallo ranuncolo dalla gonna ampia e saltò su una cassetta che qualcuno aveva messo davanti al microfono. «Salve a tutti! questa è una serata speciale e voi sapete perché! È il compleanno di qualcuno!» I pacificatori eruppero in un fragoroso applauso. Modaivori iniziò a cantare una vecchia canzone di compleanno e tutti si unirono a lei. «Buon compleanno! A te che sei speciale! Cento di questi giorni! Una volta l'anno noi brindiamo a te, comandante Hoff! Buon compleanno!» Era l'unica strofa, ma i soldati e Modaivori la cantarono tre volte, mentre i covi, a uno a uno, prendevano posto sul palcoscenico. Coriolanus trattenne il fiato quando Lucy Gray fece la sua apparizione nel vestito dai colori dell'arcobaleno che aveva indossato ai giochi. La maggior parte dei presenti avrebbe pensato che era per il compleanno del comandante, ma lui era sicuro che fosse per lui. Un modo per comunicare, per superare il baratro che le circostanze avevano scavato tra loro. Un travolgente impeto d'amore lo percorse. Gli ricordava che non era solo in quella tragedia. D'un tratto erano di nuovo nell'arena, a combattere per la sopravvivenza, soltanto loro due contro il mondo. Avvertì una fitta dolce amara al pensiero che lo avrebbe visto morire, ma si sentì grato per il fatto che lei sarebbe rimasta in vita. Lui era l'unico rimasto che potesse collocarla sul luogo dei delitti. E Lucy Gray non aveva toccato le armi. Qualunque cosa gli fosse accaduta, era confortante sapere che lei avrebbe continuato a vivere per entrambi. Per la prima mezz'ora non le staccò gli occhi di dosso, mentre i covi eseguivano alcuni numeri del loro repertorio abituale. Poi il resto del gruppo sgombrò la scena, lasciandola sola. Lucy Gray si sistemò su un alto sgabello e poi, Coriolanus lo aveva immaginato forse, si batté la tasca del vestito come aveva fatto nell'arena. Era il segnale con cui gli diceva che stava pensando a lui, che, anche se erano separati nello spazio, erano insieme nel tempo. Ogni fibra del suo corpo fremette, mentre ascoltava attentamente la canzone sconosciuta che lei aveva cominciato a intonare. Ognuno lascia limpido come l'acqua, fresco come un fiore e senza follie nel cuore. Restare così è un lavoro difficile, aspro e non di poco, come camminar nel fuoco. Questo mondo è buio. Questo mondo fa paura. Qualche colpo l'ho preso. Perciò è normale che io sia dura. Ecco perché ho bisogno di te. Sei puro come neve che si posa. No, non si era immaginato niente. L'accenno al posarsi della neve lo confermava. Aveva scritto quella canzone per lui. Ognuno vuol diventare un eroe. La ciliegina sulla torta. Oppure chi agisce, non il sognatore. Agire è fatica. Ci vuole un po' per cambiare le cose. Il latte di capra non dà burro lì per lì. E nemmeno il ghiaccio si scioglie così. Questo mondo diventa cieco anche se i bambini vengono a mancare. Io mi faccio polvere. Ma tu, tu non smetti mai di tentare. Ecco perché ho bisogno di te. Sei puro come neve che si posa. Gli occhi di Coriolanus si riempirono di lacrime. Lo avrebbero impiccato. Ma ci sarebbe sempre stata lei. Lei che sapeva che era ancora una persona sinceramente buona. Non il mostro che aveva ingannato o tradito il suo amico. Ma un uomo che aveva davvero tentato di essere nobile in circostanze impossibili. Un uomo che aveva rischiato tutto per salvarla nei giochi. Un uomo che aveva rischiato tutto un'altra volta per salvarla da Mayfair, l'eroe della sua vita. Freddo e pulito, turbinando su di me. Mi avvolgi come se ti immergessi proprio lì, nel profondo del mio cuore. Nel suo cuore. Ognuno crede di sapere tutto di me. Mi cuce addosso etichette. Vomita in giro le sue favolette. Poi sei arrivato. Sapevi ciò che nascondevo. Hai visto il mio perfetto io. E sì, quella sono proprio io. Questo mondo è crudele. Pieno di tristi eventi. Hai chiesto motivo. Ne ho tre. Più altri venti per cui ho fiducia. Ho fiducia in te. Sei puro come neve che si posa. Ci fossero mai stati dubbi? Quella era una conferma ulteriore. Tre più altri venti. Ventitré. Il numero dei tributi cui era sopravvissuta nei giochi. Tutto grazie a lui. Ecco perché ho fiducia in te. Sei puro come neve che si posa. L'accenno alla fiducia. Prima del bisogno, prima dell'amore, veniva la fiducia. La cosa alla quale lei attribuiva più valore. E lui, Coriolanus Snow, era il solo di cui si fidava. Quando il pubblico applaudì, lui rimase immobile, stringendo la sua scatola. Troppo commosso anche solo per unirsi all'applauso. Gli altri covi corsero in scena mentre Lucy Gray spariva dietro la coperta. Modaivori rimise davanti al microfono la sua cassetta e attaccò un pezzo. Beh, la vita ha un lato buio e difficile, ma anche un lato felice e soleggiato. Coriolanus riconobbe il motivo. La canzone che diceva di restare nel lato soleggiato della vita. Quella che la bambina stava cantando mentre Billy Tape e Mayfair venivano uccisi nel capanno. Era la sua occasione. Si destreggiò per uscire dalla porta lì vicino senza dare nell'occhio. Erano tutti tranquilli dentro la palestra. Quindi girò di corsa l'angolo dell'edificio fino allo spogliatoio e bussò piano alla porta esterna. Quella si spalancò all'istante e Lucy Gray si gettò tra le sue braccia. Restarono lì per un po', stretti l'uno all'altra, ma il tempo era prezioso. Mi dispiace tanto per Sejanus. Tu stai bene? chiese lei affannata. Certo, Lucy Gray non sapeva niente del suo ruolo in tutta la storia. Non esattamente, ma sono ancora qui per il momento. Lei si scostò per guardarlo in faccia. Cos'è successo? Come hanno fatto a scoprire che stava collaborando per far uscire Lil? Non lo so. Qualcuno lo avrà tradito, immagino, rispose. Lucy Gray non esitò. Sprius. Forse. Coriolanus le sfiorò la guancia. E tu? Stai bene? Sto malissimo. È stato atroce vederlo morire così. Ed è stato atroce tutto quello che è avvenuto dopo quella notte. So che hai ucciso Mayfair per proteggere me, me e gli altri covi. Posò la fronte sul suo petto. Non riuscirò mai a ringraziarti per questo. Lui le accarezzò i capelli. Beh, lei se n'è andata per sempre. Sei al sicuro? No, per niente. Per niente. Sconvolta, Lucy Gray si girò, dandogli le spalle, e cominciò a camminare su e giù. Il sindaco è... non mi lascerà in pace. È sicuro che l'abbia uccisa io. Che li abbia uccisi tutti e due. Viene a casa nostra con quella sua macchina orrenda e se ne sta seduto lì davanti per ore. I pacificatori ci hanno interrogati tutti già tre volte. Comunque dicono che lui gli sta addosso giorno e notte perché mi arrestino. E se non me la faranno pagare loro, lo farà lui in persona. Era inquietante. Cosa ti hanno consigliato di fare? Di evitarlo. Ma come posso evitarlo se continuo a restare seduto a tre metri da casa mia? Sbottò. Mayfair era tutto ciò che contava al mondo per lui. Non credo che si fermerà fino a quando non sarò morta. Adesso ha cominciato a minacciare gli altri covi. Io... io ho intenzione di scappare. Cosa? Chiede lui. Dove? Pensavo al nord, come diceva Billy Tape. Se resto qui, so che il sindaco troverà un modo per uccidermi. Ho messo da parte delle provviste. Là fuori potrei anche sopravvivere. Lucy Gray corse di nuovo tra le sue braccia. Sono felice di averti potuto dire addio. Scappare. Lo avrebbe fatto. Si sarebbe diretta verso le zone disabitate e avrebbe tentato la fortuna. Coriolanus capì che la minaccia di morte poteva spingerla a fare davvero una cosa del genere. Per la prima volta da giorni vide un modo per sfuggire al cappio. Nessun addio. Io vengo con te. Non puoi. Non te lo permetteranno. Rischieresti la vita. Lo mise in guardia lei. Coriolanus rise. La mia vita? La mia vita consiste nel chiedermi quanto ci vorrà ancora perché trovino quei fucili e mi colleghino all'omicidio di Mayfair. Ora stanno perquisendo il giacimento. Potrebbe succedere da un momento all'altro. Partiremo insieme. Lucy Gray aggrottò la fronte, incredula. Dici sul serio. Domani, replicò lui. Un passo avanti rispetto al boia. E al sindaco, aggiunse lei. Finalmente ci libereremo di lui, del distretto 12, di Capitol City, di tutto quanto. Domani, all'alba. Domani all'alba, confermò. Spinse la scatola tra le sue mani. Da parte di Pluribus, tranne il fular, quello è da parte mia. Farò meglio ad andare prima che qualcuno si accorga della mia assenza e si insospettisca. La attirò a sé per un bacio appassionato. Siamo solo noi. Di nuovo. Solo noi, disse Lucy Gray, il viso splendente di gioia. Coriolanus volò fuori dallo spogliatoio con le ali ai piedi. Accogliamo ogni giorno con un canto di speranza. Siano cupi o allegri i momenti che viviamo. Non solo sarebbe vissuto. Sarebbe vissuto insieme a lei, come quel giorno al lago. Pensò al sapore del pesce fresco, alla dolcezza dell'aria e alla libertà di agire in qualunque modo volesse, secondo natura. Senza dover rispondere a nessuno. Senza dover sottostare alle opprimenti aspettative del mondo. Mai più. Confidiamo sempre nel domani. Che ci assista tutti con premura. Tornò alla palestra e scivolò al suo posto, in tempo per unirsi all'ultimo coro. Resta dal lato soleggiato. Sempre dal lato soleggiato. Resta dal lato soleggiato della vita. Ci aiuterà ogni giorno. ci illuminerà il cammino. Se restiamo dal lato soleggiato della vita. Sì, signore. Resta dal lato soleggiato della vita. La mente di Coriolanus era come in balia di un vortice. Lucy Gray raggiunse i covi per uno di quei canti armonici dalle parole incomprensibili. E lui smise di ascoltarli, mentre cercava di superare l'ennesima sorpresa che la vita gli aveva riservato. Lui e Lucy Gray, che scappavano in mezzo al nulla. Pazzia. D'altra parte, perché no? Era l'unica cima di salvataggio alla sua portata e intendeva afferrarla e tenersela stretta. L'indomani era domenica, perciò aveva la giornata libera. Se ne sarebbe andato prima possibile. Avrebbe fatto colazione, forse il suo ultimo pasto nella civiltà, all'apertura della mensa, alle sei. Poi avrebbe preso il largo. I suoi compagni sarebbero stati ancora tra le braccia di Morfeo per via del whisky. Sarebbe dovuto sgattaiolare fuori dalla base. La recinzione. Sperò che Sejanus avesse ricevuto un'informazione giusta riguardo al punto debole dietro il generatore. Dopodiché sarebbe andato da Lucy Gray e avrebbe corso a perdi fiato. Però un momento. Doveva andare a casa sua. Con i covi tutti lì. E magari anche il sindaco. O lei intendeva dire che si sarebbero incontrati nel prato. Ci stava rimuginando su quando il numero terminò. E lei tornò a scivolare sullo sgabello con la sua chitarra. Me ne ero quasi dimenticata. Ho promesso di cantare questa per uno di voi, disse. Ed eccola di nuovo, sempre con grande disinvoltura, la mano sulla tasca. Lucy Gray cominciò a cantare il pezzo su cui stava lavorando quando Coriolanus era arrivato alle sue spalle nel prato. Verrai. Verrai. All'albero verrai, cui hanno appeso un uomo che tre ne uccise, o pare. Strani eventi qui si sono verificati. E nessuno mai verrebbe a curiosare se a mezzanotte ci incontrassimo all'albero degli impiccati. L'albero degli impiccati, il posto dove in passato si incontrava con Billy Tobe, era lì che voleva la raggiungesse. Verrai. Verrai. All'albero verrai, laddove il morto implorò l'amor suo di scappare. Strani eventi qui si sono verificati. E nessuno mai verrebbe a curiosare se a mezzanotte ci incontrassimo all'albero degli impiccati. Avrebbe preferito che non si trovassero nello stesso luogo in cui lei era solita dare appuntamento al suo ex innamorato. Ma di certo era più sicuro che incontrarsi a casa. E sarebbe stato lì di domenica mattina. In ogni caso, Billy Tobe non era più un problema. Lei fece un altro respiro. Doveva aver scritto altro. Verrai. Verrai. All'albero verrai. Ove ti dissi corri se ci vuoi liberare. Strani eventi qui si sono verificati. E nessuno mai verrebbe a curiosare se a mezzanotte ci incontrassimo all'albero degli impiccati. Cosa si riferiva? A Billy Tobe che le diceva di andare lì per poter essere liberi. A se stessa che diceva a lui, Coriolanus, che quella notte sarebbero stati liberi. Verrai. Verrai. All'albero verrai. Di corda una collana insieme a dondolare. Strani eventi qui si sono verificati. E nessuno mai verrebbe a curiosare se a mezzanotte ci incontrassimo all'albero degli impiccati. Ora capiva. Chi parlava nella canzone era Billy Tobe ed era lui che stava cantando a Lucy Gray. Aveva assistito alla morte di Arlo. Sentito gli uccelli gridare le sue ultime parole. Implorato Lucy Gray di fuggire verso la libertà con lui. E quando lei lo aveva respinto, aveva desiderato che venisse impiccata insieme a lui, piuttosto che continuasse a vivere senza di lui. Coriolanus sperò che quella fosse l'ultima canzone su Billy Tobe. Cos'altro c'era da dire, in effetti. Non che avesse importanza. Poteva anche essere la sua canzone. Ma lei la stava cantando a Coriolanus. Gli snow si posano in cima. I covi eseguirono altri brani. Poi Lucy Gray disse. Beh, come era solito dire mio padre, devi andare a dormire con gli uccellini se vuoi salutarli all'alba. Grazie per averci ospitato questa sera. E cosa ne pensate di fare un altro giro di auguri al comandante off? L'intera palestra, ormai sbronza, farfugliò in coro un altro. Buon compleanno! Con un ultimo inchino, i covi uscirono di scena. Coriolanus attese in fondo alla palestra per aiutare Bug e Pertica a tornare alla camerata. Le luci vennero spente in un attimo e loro furono costretti ad andare a letto al buio. I suoi compagni crollarono quasi subito, ma Coriolanus rimase sveglio, riesaminando mentalmente il piano di fuga. Non richiedeva granché. Solo lui, i vestiti che aveva addosso, nelle tasche un paio di oggetti personali da portarsi per ricordo e una gran quantità di fortuna. Si alzò all'alba, indossò la tuta mimetica e si ficcò nelle tasche un paio di cambi puliti di biancheria e calze. Scelse tre foto della sua famiglia, la cialda di cipria di sua madre e la bussola di suo padre. Poi nascose anche quelli in mezzo alle altre cose. Infine, con il cuscino e la coperta, cercò di imitare al meglio la propria sagoma e vi stese sopra il lenzuolo. Diede un ultimo sguardo alla camerata e, mentre i suoi compagni continuavano a russare, si chiese se avrebbe sentito la loro mancanza. Raggiunse un gruppetto di mattinieri per una colazione a base di torta di pane, il che gli parve un presagio favorevole, dato che era la preferita di Lucy Gray. Avrebbe voluto potergliene portare un po', ma le sue tasche erano gonfie fino a scoppiare e, immensa, non avevano tovaglioli. Svuotò al bicchiere di succo di mela, si asciugò le labbra con il dorso della mano, riconsegnò il vassoio da lavare e uscì, pensando di andare dritto al generatore. Appena fu alla luce del sole, un paio di guardie piombarono su di lui. Guardie armate, non attendenti. Soldato semplice Snow, disse uno, sei desiderato nell'ufficio del comandante. Una scarica di adrenalina lo percorse. Il sangue gli martellava nelle tempie. Non era possibile che stesse accadendo. Non potevano essere venuti ad arrestarlo proprio quando era sul punto di conquistarsi la libertà. Una nuova vita con Lucy Gray. I suoi occhi guizzarono verso il generatore, a un centinaio di metri dalla sala mensa. Nonostante l'addestramento, non sarebbe mai riuscito a correre così veloce da arrivare fin lì in colume. Mai. Mi servono solo altri cinque minuti. Implorò l'universo. Ne bastano anche due. L'universo lo ignorò. Affiancato dalle guardie, tirò indietro le spalle e marciò fino all'ufficio del comandante pronto ad affrontare la sua rovina. Quando entrò, il comandante Hoff si alzò da dietro la scrivania, scattò sull'attenti e gli fece il saluto. Soldato semplice Snow, disse, voglio essere il primo a congratularmi con te. Domani parti per la scuola ufficiali.